Direi di sì o direi di no? Io? Massa Maria, così? Ma te vuoi rovinare la sorpresa? No, fai quello che vuoi Ma tu vuoi sapere? Vabbè dai Io non so se conto qualcosa, ti posso dire? Facciamo qua, eh? Io non so se conto qualcosa No, non lo so, infatti mettiamo una roba così o esco se vuoi perché tanto... Ragazzi a me questo sarcasmo mi ha anche rotto il... No, ma tu brucia! Perché adesso parliamo un attimo di cose serie Adesso io brucia Maria, non so se posso, se stavi chiedendo se volevi la risposta, non vado avanti Però, con tutto il bene del mondo, l'importante per me è che tu sappia che a me non è stata una mancanza di rispetto quel sorriso È nato veramente spontaneo, ma perché... perché mi fa ridere lui, ma non era una mancanza nei tuoi confronti Anzi, mi sembra più volte di averti chiesto che posso fare io, ti faccio un balletto Ma ti stai giustificando? Mi sto giustificando Ma ti stai giustificando? Sammi, mi sto giustificando perché a me... Non sai che c'è feeling e complicità? Non si possono comprare al supermercato Io non li voglio comprare, ma se a me dispiace che lui ci sia rimasto male Non ti giustificare per quello che hai fatto Se c'è rimasto male se ne farà ragione, non ti preoccupare che non muore questo Finché io mi sento di giustificare, non mi giustifico Quello che casca in piedi sei te qua, non ti preoccupare Io casco sempre in piedi Quello che casca in piedi sei te Io casco sempre in piedi Che se arriverà un giorno in cui ci saranno due sedie e saremo io e te, quello che casca in piedi sei te, a prescindere dalla risposta Ma non ti preoccupare, io casco in piedi comunque Non ti preoccupare Ma questo che è vittimismo, ma che cos'è? Non sto capendo Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi?